Le festività pasquali ed il ponte del 25 aprile potrebbero causare un aumento di positivi e anche se in maniera minore di ospedalizzazioni nella nostra regione. Il direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia del Santo Spirito di Pescara Paolo Fazzi non nasconde la sua preoccupazione. È naturale che quando non c'è attenzione e quindi non c'è distanziamento sociale anche all'aperto, perché stiamo vedendo quello che succede soprattutto qui da noi che comincia a fare caldo, il mare e la spiaggia ti invogliano, gli stabilimenti ti invogliano a frequentarli eccetera. È naturale che la possibilità di contagio ci sia, oltretutto Omicron 2 è un virus altamente contagiante ed è un virus, così come lo è sempre stato anche SARS-CoV-2, ma si è capito il ritardo, non si è voluto far capire prima, è un virus che si trasmette per aerosol. Quindi al chiuso io consiglio di continuare a mantenere mascherine, perché al chiuso se l'ambiente non è molto areato, non ci sono molti ricambi d'aria, la possibilità di infettarsi sono veramente tante. Ma anche all'aperto, se si sta uno accanto all'altro, poi se si parla a tutti quanti assieme, il vocio aumenta di tono, noi siamo costretti a parlare con un tono più alto e questa situazione comporta uno spruzzo, diciamolo chiaramente, di particelle di flughe più elevato rispetto invece ad una situazione più silente. Appare ormai quasi certo che in autunno bisognerà ricorrere alla quarta dose per prevenire poi grossi problemi nella stagione invernale. L'epidemiologia, che è una scienza un pochettino più esatta della medicina, ci dice di stare un attimo accorti, attenti, perché il pericolo non è ancora passato. Probabilmente avremo un'altra invernata, speriamo una sola, con Covid-19, però probabilmente l'avremo. Sarà probabilmente un virus più infettante di Omicron 2, ma meno impattante dal punto di vista della salute, però dovremo fare i conti anche con questo SARS-CoV-2 persistente, secondo me ancora per un'annata, e quindi probabilmente, forse ad ottobre, sarebbe congruo effettuare una quarta dose per tutti.